L'influsso esercitato. Che cos'è la psicocinesi? Commento. La psicocinesi è l'influsso esercitato dalla mente su corpi fermi o in movimento. I fenomeni di psicocinesi sono molto vari e hanno origini molto antiche. Essi comprendono gli spostamenti di oggetti che avvengono nei case di poltergeist, i movimenti del tavolo, le evitazioni e tutti gli altri fenomeni fisici prodotti dai tramiti, la registrazione di voci paranormali, i piegamenti dei metalli e forse l'azione ancora misteriosa dei guaritori. Negli ultimi anni del secolo scorso, importanti fenomeni cinetici sono stati ottenuti con soggetti eccezionali come Uri Geller e Matthew Manning, con la polacca Stanislava Tomczyk e la russa Nina Kulagina. La psicocinesi appartiene di diritto ai fenomeni fisici superiori prodotti dalla mente, ma non piegabili dalla mente. Grazie a tutti.